Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Un botta e risposta senza esclusioni di colpi. Quello tra Daniele Dal Moro e un noto esperto di gossip. Ecco cosa è successo tra i due. L'ex tronista ed ex GFino Daniele Dal Moro nell'ultimo periodo è diventato uno dei personaggi più seguiti sui social. Dopo la sua partecipazione al GF Vip. Nonostante sia stato squalificato per dei comportamenti poco con suoni tenuti nei confronti dell'inquilina Oriana Marzoli, la sua uscita fa ancora discutere. Diciamo anche che Daniele Dal Moro è particolarmente predisposto alle discussioni. Dato che nella casa in vari momenti ha mostrato la sua, ira veneta, con tanto di giugulare fuori dal collo per lo sforzo. Se in passato il pubblico, è stato abituato a vederlo in questo stato. Quel che è accaduto qualche giorno fa ha lasciato tutti basiti. Le accuse contro Daniele Dal Moro. Lo scorso 25 maggio su Twitter si è scatenato l'inferno tra il veneto Daniele Dal Moro e l'esperto di gossip, Alessandro Rosica. L'improvviso allontanamento del giovane dalla sua fidanzata o pseudo tale Oriana Marzoli. Non è passata inosservata alla pagina chiocciola investigatore social di Rosica. A quel punto, Alessandro Rosica ha iniziato a tirare delle frecciatine. Per nulla velate, contro Daniele. L'accusa più grande è avergli dato del finto etero. Dato che a suo dire a Verona in molti sanno come stanno davvero le cose. Tuttavia, questa granata esplosa nel pomeriggio, è stata rimossa. Anche se i follower di Daniele hanno fatto in tempo a salvare il tweet. La reazione dell'ex Gieffino. Non appena Alessandro Rosica ha scritto quegli attacchi. I tanti fan di Daniele si sono preoccupati di mandargli in direct gli screen dei suoi tweet al vetriolo. Immediata la sua reazione. Tanto da averlo minacciato pubblicato di non fargliela passare liscia questa volta. Chiaramente Rosica. Dopo un iniziale silenzio ha deciso di metterci la faccia scrivendo. Ma sapete che vi dico? Che io ho ragione e lo combatterò in tribunale. Domani denuncia. Non voglio abbassarmi a questi livelli da persona rovinata. Ciao. A questo punto, non resta che scoprire cosa accadrà prossimamente. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao. Ciao a tutti. Grazie a tutti